Buongiorno a tutti, sono Michele Ciaffoncini, faccio parte di un'associazione di giovani artisti che si occupano di diffondere l'arte sul territorio. L'associazione si chiama Arte Ex Tempore e presento per il secondo anno il primo artistico letterario Arte Ex Tempore, appunto i miti del nostro tempo. Se volete trovare tutte le informazioni relative a questo concorso premio artistico letterario potete visitare il sito internet www.artemextempore.it dove è possibile effettuare la propria iscrizione. E' di 15 euro per quello che riguarda gli adulti dai 16 anni in poi, mentre è 12 euro per tutti quelli che sono iscritti all'università, alle scuole, quindi alle scuole di formazione. E' possibile attraverso questo premio vincere dei premi in denaro, quindi ci sono quattro categorie in concorso che sono arti grafiche e pittoriche, fotografia, poesia, canzone d'autore. E come vi dicevo i primi di queste categorie hanno la possibilità di vincere un premio in denaro, di poter far parte di una mostra collettiva delle opere finaliste che inaugureremo il prossimo 29 di maggio alla Sala del Maniscalco e entreranno a far parte di un catalogo d'arte. Quindi vi aspetto tutti i numerosi per partecipare. Le iscrizioni finiscono il prossimo 30 di aprile, quindi manca pochissimo tempo. Vi aspetto numerosi e bocca al lupo.